Alla Vitrifico Arena c'è voluto un tempo supplementare per sancire la vincente fra Carpegna, Prosciutto Pesaro e Gevi Napoli. L'hanno spuntati i campani 97-99 dando corpo ad una sconfitta amara per i 4.000 pesaresi presenti nell'astronave. Una sconfitta che ha il sapore dell'occasione sprecata perché Pesaro, seppure con distacchi contenuti, ha sempre tenuto il muso avanti sugli avversari alla fine di primo, secondo e terzo quarto, salvo essere raggiunta sull'87 pari alla sirena per poi perdere una palla sul 95 pari all'overtime che costata la partita. Ottima gara per Moretti, top scorer con 24 punti, come positive sono state le prove di Abdurrakam, Kravic e Tambone. Bocciature per Cittam e Charalampopoulos. Napoli indigesta a Pesaro anche nel calcio a 5 perché l'Ital Service sul campo di Montesilvano perde 2-1 contro la capolista Campana nonostante il vantaggio di De Oliveira e una prestazione di grande abnegazione degli uomini di Colini. Nel calcio la Vispesaro torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive ma non riesce a segnare per la terza gara di fila. Risultato, un misero 0-0 contro l'Alessandria che manifesta il momento involuto della squadra di Sassarini che ha necessità di recuperare infortunati e, verosimilmente, di ingaggiare rinforzi. In Serie D anche il Fano si presentava incerottato all'appuntamento interno col Termoli e ne uscito un pareggio 1-1. Sorride invece la Megabox Vallefoglia che alla prima di campionato urbino vince al tie-break per 3-2 sull'ostica Cuneo.